Siamo qui questa sera alla riunione del Consiglio Comunale con il Diocio Torfella. Cosa ne pensa le agitazioni di questa sera dei cittadini e la loro presenza al Consiglio Comunale? Una grande conquista di democrazia quando si muove un popolo. Quello che mi sono permesso di rappresentare al Sindaco, io sono corso qui a questo Consiglio Comunale come gli altri, non certamente per fare chiasso o per dare fastidio all'attività del Consiglio, ma perché stiamo registrando che nel momento in cui si sta prendendo coscienza di una grave situazione ambientale a Caimano esistono anche delle minacce fatte a chi ci ha educato in tutti questi anni, non in un giorno, alla sensibilità e alla difesa della vita di queste persone. Quindi in particolare io sono corso quando ho sentito che sono stati applicati dei roghi in maniera scientifica, sistematica, enormi e parrisemente minacciosi davanti alla parrocchia del Parco Verde di padre Morizio Patriceno. Quindi io sono venuto a fare un appello donando il nostro libro che abbiamo presentato ieri affinché questo Consiglio Comunale si assume l'onere di non creare, non lasciare solo padre Morizio Patriceno in particolare, che ha portato il problema Caimano, roghi, all'attenzione di tutta Italia. Io non voglio un altro dondiana, io non voglio un altro dondiana, io voglio chi ci educa, come sta educando, alla sensibilità di un problema grave che tutti quanti insieme, indipendentemente dalle posizioni politiche, dobbiamo affrontare ma soprattutto risolvere. Ormai è chiaro a tutti che non possiamo andare avanti così. Per la sua esperienza cosa hai sentito di dire ai bambini o magari ai giovani che sono più presenti o anche agli anziani? Allora, è incredibile dover dire che in un territorio come questo che è verde ci sono i problemi di dover respirare che sono ben maggiori di quelli che vivo io vivendo al centro di città. Io posso solo permettere di dire che è un territorio bellissimo, che quando non bruciano è un territorio che è evidentemente ancora pieno di tanto verde ed è in fiore, siamo in un'estate molto calda, ma io ho visto anche piena di colori, bellissima in queste campagne, è evidente a tutti che quei bambini come si fa in condizioni normali chiamassero papà, perché a questo punto è evidente che quel papà di quei bambini non può tollerare che gli si riuscino dei rovi a fianco a dei bambini che devono giocare sereni e che devono altrettanto respirare sereni sia di giorno che di notte. In una recente intervista ad un signore anziano, su Marciapiere insieme ai suoi compagni di estate, gli si chiedeva cosa pensava del fenomeno dei russi e lui ci ha risposto che oramai il Vesuvio con il fumo nero è un paesaggio che appartiene al nostro patrimonio. Lei cosa ne pensa? Cosa risponderebbe? Dobbiamo rassegnarci? Dobbiamo attendere molto? Dobbiamo attivarci? Come dobbiamo fare? Allora, noi se siamo qua è perché non intendiamo rassegnarci. Ci hanno fatto rassegnare, ieri mi è piaciuto quando abbiamo presentato il libro, le affermazioni di Rivegio e delle mie, del comico di Rivegio, il quale praticamente si è reso conto che come ci stiamo rassegnando perché ci hanno indotto i sensi di colpa. Allora noi ci riteniamo responsabili di tante inciviltà e quindi sentendoci responsabili di tante inciviltà non abbiamo affrontato né ci siamo ribellati. Allora quello che è importante che sta accadendo è che ci si rende conto che la nostra inciviltà faceva parte del piano e quindi il comune deve impegnarsi affinché l'inciviltà migliori. Certamente abbiamo dei problemi di inciviltà ma altrettanto le persone si devono rendere conto che non si devono rassegnare perché stanno realmente avendo una guerra di sterminio. Questo ormai è chiaro a tutti. Qua i problemi di rifiuti urbani sono molto pochi. C'è un problema grave di rifiuti industriali? Certo, se consideriamo che questa è una fabbrica come è, di rifiuti industriali, in gestione dei rifiuti industriali a cielo aperto è normale che tu in una fabbrica non ci dovresti abitare. Alcuni hanno detto che il popolo napoletano è abituato a sopportare, a sopportare passivamente e che l'ultima rivoluzione vera e propria si deve a Masaniello. Lei pensa che il napoletano, lei pensa che i napoletani siano davvero così ignavi o siano disillusi? Allora per essere precisi, lo storico Cuoco, Vincenzo Cuoco, che è colui che ha descritto meglio la rivoluzione del 1790 miliardi, testualmente scrive che i napoletani non sono capaci di rivoluzione ma di rivolte. Quella di Masaniello era una rivoluzione che non è stata una rivoluzione, la rivoluzione è un'altra cosa. Quando tu cambi il proprio sistema, crei un sistema nuovo e hai addirittura a monte le capacità di programmare anche prima un'ideologia, una classe dirigente eccetera. I napoletani non hanno queste capacità, proprio oserei dire speculative e soprattutto programmatorie, però sono persone molto pazienti, che è una grande dote. Avere tolleranza non è un difetto, è una dote che manca a tanti popoli in questo mondo. Però altrettanto quando ci rendiamo conto che si è superato il limite, noi siamo i più violenti di tutti. Cioè quando poi si è reso conto che si è superato il limite, a Napoli la rivolta è sempre violentamente sanguinosa, perché tu ti sei reso conto che adesso non hai altro da fare che o la tua vita o quella di quello che ti ha distrutto. Questo mi preoccupa perché tra situazione politica grave, situazione economica grave, lavoro estremamente grave, è chiaro che continuando ad andare così, all'epoca di Gates, all'epoca delle nostre passate splendori ma anche tragedie, tutti erano poveri, però tutti potevano vivere la sera in un ambiente sereno. Gates scriveva che i napoletani sono poveri, però possono permettersi di accontare dei tedeschi, di dormire anche serenamente sulla riva del mare, sulla spiaggia d'estate. Noi oggi non possiamo permetterci più niente, non possiamo permetterci neanche più di stare chiusi in casa col balcone aperto. Quindi è chiaro che si sta creando un aumento di pressione in questa pentola a pressione e il napoletano è fatto così. Anche stasera, come già da me, quando si muove un intero parco che viene a protestare il Consiglio Comunale, la mia preoccupazione e la preoccupazione di tutti è che non si superi la pressione massima. In Campania, ripeto, non si fanno rivoluzioni, ma noi siamo molto facili alle rivoluzioni. La ringraziamo per le sue testimonianze e ci siamo contenti per la proposta di cittadinanza onoraria che è stata fatta. A padre Maurizio, è secondo me un grande aspetto di grande intelligenza politica se vedrà realizzata ed è un grande atto di speranza. Deve essere presa in questo senso, una provocazione ma un atto di speranza. Va bene, la ringraziamo, buon lavoro.